eccoci qua ragazzi stasera scottona di vederlo adulto guardate che bel pezzo questo è 400 480 grammi adesso lo tagliamo tutto a fettine la faremo poi la passeremo nella farina la faremo tipo sgaloppine prendiamo la fetta di carne e la mettiamo nella farina un po di cipolla e un po di vino per far rosolare un pochino d'olio e del vino con dell'acqua per non farlo diventare tanto asciutto quasi a fine cottura ci mettiamo un po di sale e un po di pepe minuti la cena è pronta passiamo alla prova della sagra la nostra cena è pronta adesso la prova della saggia guarda qua un po di carne e un'insalatina e sistemiamo la seratina la cena è pronta se questo video vi è piaciuto perché fra poco metteremo la ricetta su tutte le parti del mondo adesso vediamo la prova della saggia ragazzi andiamo a fare possiamo niente ma affrontare la vita per come viene e ora guardate che bellezza questa carne una due tre arna internazionale bello leggerino leggerino ragazzi non si può togliere le mocca le mocca buona giornata a tutti ciao